Si è svolta presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli l'Assemblea Sindacale degli Iscritti e del Personale Dipendente della CGL per presentare i nuovi delegati delle RSU. Abbiamo intervistato Alfonso Rianna, coordinatore provinciale Funzione Pubblica CGL Salerno. Oggi noi abbiamo indetto questa assemblea al Comune di Agropoli innanzitutto per presentare i nuovi delegati che sono usciti fuori dalle scorse elezioni della RSU. Ovviamente siamo arci soddisfatti perché abbiamo avuto un successone. Su cinque delegati la CGL Funzione Pubblica Salerno ne ha presi tre, quindi significa maggioranza assoluta. Questo per noi ci riempie di orgoglio ma ci impegna ancora di più rispetto al passato perché nei prossimi tre anni abbiamo una piattaforma programmatica che poi andremo a presentare alla nuova amministrazione che ci sono le elezioni domenica sperando di poter interagire quando riguarda tutti gli aspetti contrattuali che stiamo aspettando perché a breve ci sarà il rinnovo del contratto. Il nostro contratto è scaduto il primo gennaio 2019 e il 2019-2021 verrà sottoscritto a breve, si pensa prima del mese d'agosto. Ci potrà essere la possibilità di potenziare l'organico all'interno dell'ente comunale? Ci sono anche altri settori dell'ente comune di Agropoli che sono in sofferenza. Tutto ciò viene fuori dalla mancata applicazione del turnover per cui noi sul fabbisogno triennale siamo stati alquanto critici perché quello che è stato fatto dalla scorsa amministrazione è che là c'è stata una mancanza perché non hanno informati i sindacati. Noi siamo venuti a saperlo e noi come Cigella abbiamo subito chiesto un tavolo di confronto per portare e abbiamo portato i contributi alle nostre criticità rispetto a quel piano che era stato fatto. Ovviamente per Agropoli è un discorso a parte perché essendo un comune in piano di riequilibrio ogni qua volta si fa il fabbisogno che è triennale però si fa annualmente c'è bisogno di nulla osta della Confesel che è quello che praticamente è l'ente che controlla gli enti locali per cui c'è sempre una sorta di spada di Damocle perché se non arriva nulla osta poi tutto quello che è stato fatto insomma si deve rettificare. Ovviamente la nostra attenzione al di là della polizia municipale riguarda un pochettino tutti i settori del comune di Agropoli. Anche l'ufficio tecnico hanno forti criticità per mancanza di personale, l'anagrafe insomma un pochettino tutti perché ovviamente questo è un tema che riguarda non solo il comune di Agropoli ma un pochettino tutti gli enti locali della provincia di Salerno. È ovvio che tutto ciò è sempre come dire deve camminare di pari passo con quello che sono le risorse su cui si può investire. Poi è ovvio che là entra in gioco la volontà politica su quale settore andare a investire per le assunzioni e noi su quello saremo presenti sicuramente saremo presenti perché il nostro contributo conoscendo bene la realtà del comune può essere come dire importante per il futuro e per potenziare alcuni settori. Ad intervenire all'assemblea sindacale della CGL anche il comandante della polizia municipale della città di Agropoli Maurizio Cauceglia. Nel mese di aprile vi è stato il rinnovo delle cariche sindacali, delle rappresentanze sindacali unitarie. Era una tornata elettorale nazionale e tutte le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a rinnovare le cariche sindacali. Anche il comune di Agropoli, i lavoratori del comune di Agropoli sono stati chiamati a rinnovare le cariche sindacali e in questa tornata ha confermato che l'organizzazione sindacale a cui anche io appartengo, la CGL Funzione Pubblica, è il primo sindacato del comune di Agropoli e su cinque rappresentanti sindacali ha ottenuto l'elezione di tre rappresentanti sindacali. Quindi questa organizzazione sindacale si pone in continuità con l'ottimo lavoro svolto precedentemente dai precedenti rappresentanti sindacali a cui facevo parte anche io e ha incominciato oggi con questa iniziativa, con questa assembleare. È un incontro in cui per la prima volta i nuovi eletti si presentano ai lavoratori e per raccogliere neanche indicazioni, suggerimenti, disagi per poi tradurre questo in istanze da sottoporre, ove ce ne fosse il tempo al commissario prefettizio, ma da sottoporre subito alla prossima amministrazione che si dovesse insediare da qui a pochi giorni. È chiaro che il comune di Agropoli versa in una condizione, diciamo, da un punto di vista delle risorse, delle dotazioni delle risorse umane, è sostanzialmente strutturalmente deficitare. A fronte di un fabbisogno di risorse umane in tutte le qualifiche di oltre 130 unità, siamo al di sotto del 75-76 unità ed è evidente che in questa condizione gran parte delle funzioni cui un ente locale, il comune, che ricordo è l'istituzione di prossimità ai cittadini, è la prima istituzione a cui il cittadino si rivolge per le esigenze e da Agropoli ne abbiamo, come dire, ben d'onde da dire, non solo esigenze di sicurezza, di esigenze, diciamo, sulla viabilità, sull'igiene, la questione delle alghe, è l'istituzione di prima istanza del cittadino. E quindi se si opera in una condizione, diciamo, di efficienza delle risorse umane, è evidente, se poi associata anche magari alle difficoltà finanziarie, è evidente che molte volte non si riesce a dare la giusta e doverosa risposta alla comunità laddove vi sono delle legittime istanze. Quindi è evidente che in una stagione in cui si guarda con attenzione giustamente ai fondi che ci arrivano dall'Unione Europea per il piano di resistenza e di ripresa di residenza e non si può prescindere da una struttura organizzativa che sia efficiente, che sia in grado di cogliere le opportunità che l'Unione Europea offre per fare un cambio di passo. Quindi investire su delle risorse umane, investire su competenza, sul sapere è la scelta giusta strategica che potrebbe mettere, diciamo, di nuovo in corso alla nostra comunità.